Non solo regista ma anche produttore di un bellissimo film, Il paese dei jeans in agosto e ha un titolo particolare questo film, da che cosa nasce? Come è nata l'idea di dare questo titolo a questo film? Beh, un'idea della regista, Simona Bosco Ruggeri, che fra l'altro è un esordio, un esordio sorprendente perché ha fatto veramente un bellissimo film grazie anche a un cast straordinario con Lina Siciliano, Nunzia Schiano, Nini Bruschetta, Enzo De Caro, Rosalia Porca, insomma un bellissimo cast, Pasquale Risiti che è il coprotagonista. Il paese dei jeans in agosto rendeva bene quasi questo contrasto fra due generazioni, fra un paese in cui c'è una cultura radicata e i jeans in agosto, insomma che sono una sorta di fuga dei giovani che hanno bisogno di altro e il film racconta un po' questo scollamento fra due generazioni, fra i ragazzi quasi trentenni che hanno dei riferimenti social di un certo tipo e i genitori che hanno tutt'altra visione e quindi si scontra una volta un paese come Montessano Scalo che nella provincia di Salerno un po' isolato, insomma la vita era circoscritta lì, adesso ovviamente non c'è più, le ambizioni sono diverse per le nuove generazioni, quindi è molto più faticoso restare radicato in quella situazione. Però è un film che non è celebrativo nel senso nei confronti dei social e dei selfie, cioè ne fotografa l'enfasi delle persone eccetera così ma ne evidenzia contestualmente anche i difetti. Infatti è molto forte, molto interessante il punto di vista di Simona perché fa capire che ormai siamo disposti addirittura a modificare la nostra vita in funzione dei social, siamo disposti a mentire piuttosto che a far vedere una vita che non è veramente la nostra per apparire quello che non siamo e questa è una cosa da una parte triste, dall'altra preoccupante, dall'altra interessante da analizzare. Non è facile da assemblare, da rappresentare questo mondo, c'è stato un momento di impasto, un momento in cui vi siete confrontati che è stato più difficile da realizzare? Beh in realtà a Monte a me aveva colpito la sceneggiatura perché Simona è nata a Torino, ha vissuto fra Bergamo e Bardonecchia però alle radici profondamente legate a questo paese in provincia di Salerno da cui viene sua mamma e tutta una parte della sua famiglia e quindi ha avuto questo punto di vista se vogliamo esterno ma assolutamente intimo rispetto alle emotività dei personaggi. Quello credo sia la cosa molto forte del film, la possibilità di aver raccontato così bene la sensazione che hanno i giovani in un contesto del genere con la necessità di evadere, con la voglia di cambiare le regole e però in alcuni casi l'impossibilità, dall'altra invece l'opportunità perché infatti uno dei protagonisti ha avuto la sua occasione e adesso continua a tentare, poi ovviamente non possiamo spoilerare più di tanto. Ecco perché la scelta di far parlare tutti i personaggi in dialetto? Mettendo anche sottotitoli ovviamente. Quello io credo che sia una cosa che alla fine dà una sua forza, una sua verità, una sua potenza. Abbiamo avuto recentemente degli esempi, a parte quello di Garrone che è un film totalmente sottotitolato eppure il pubblico l'ha accettato e ne è uscito entusiasta perché quello ovviamente dava un realismo, una forza, anche stranezza d'amori, addirittura la stranezza, quello piccolo era dei momenti sottotitolati perché ovviamente il poter dare alle persone l'opportunità di esprimersi nel proprio dialetto anche stretto rende tutto più vero, più realistico, specialmente nel nostro caso dove era proprio uno dei temi del film, cioè avere anche un linguaggio diverso fra due generazioni. Ci racconti qualche aneddoto dietro le quinte con gli attori? Beh sì, sicuramente è stato veramente, poi si dice sempre, però un gruppo fortissimo, una famiglia, adesso aneddoti ci sono stati alcuni però non saprei isolarne uno, ma la cosa veramente che anche rispetto ai miei film ho trovato è questa adesione del gruppo di attori che sono stati eccezionali, il rapporto fra di loro e ognuno ha dato al suo personaggio un valore aggiunto veramente importante, è proprio stato un gruppo bellissimo e sai trovarsi in un paese isolato dal mondo tutto insieme per diverso tempo ti crea anche un tipo di energia, di interazione molto forte. Ecco, come si crea un gruppo coeso? Per lei che è un regista che ha girato tantissimi film, non è facile anche mettere assieme attori molto importanti anche con a volte anche esordienti? Beh, quello ovviamente sai, ognuno ha la sua sensibilità, quindi già nei provini, già nel tipo di rapporto capisci se con uno ti trovi bene o ti trovi male, quindi io ho sempre la tendenza a chiamare, poi utilizzare attori che stimo, che mi piacciono, con cui mi trovo bene e lo stesso per la troupe, ovviamente si trovi bene con un direttore della fotografia, con uno scenografo, un musicista, insomma si cerca di creare a monte un gruppo che sia forte, che funzioni e che ti dia quell'energia che dà valore aggiunto al film. Tra gli attori che si può dire che lei ha lanciato, c'è Scamarcio, Tre metri sopra il cielo, un film per tutti indimenticabile, ci racconti un po' anche qualche aneddoto di quel film, un po' curioso perché insomma Scamarcio poi è diventato famoso da quel momento lì in poi. Sì, in realtà è stata una bellissima esperienza per tutti perché era appunto per lui il primo film da protagonista, importante per me, il primo film in assoluto e avevamo a che fare con qualcosa che era stata un'intuizione molto forte, perché era stata un'intuizione del produttore Riccardo Tozzi che aveva detto ma perché in Italia non esiste un film per gli adolescenti, un film romantico, proviamo e all'epoca mi ricordo anche tutti dicevano no, i pubblico italiani, i ragazzini italiani vanno a vedere film stranieri, non c'è possibilità e invece abbiamo messo talmente tutti tanto tanto entusiasmo, tanta passione, tanta voglia di far qualcosa di nuovo perché all'epoca era veramente qualcosa di nuovo e alla fine io ho avuto la fortuna di trovare Riccardo perché Riccardo è perfetto per quel ruolo lì e infatti ha funzionato perfettamente, poi abbiamo fatto subito un altro film, un uomo perfetto, anche lì si è messo in gioco sulla commedia ed è stato bravissimo, fra l'altro ci siamo sentiti poco tempo fa perché adesso hanno messo su Netflix tre metri sopra il cielo, è stato subito in classifica per diverso tempo, è andato molto bene quindi è un film che ha segnato una svolta, adesso ovviamente è quasi una richiesta dei broadcaster, di avere prodotti per teenager eccetera all'epoca, era qualcosa di nuovo insomma. Come si giudica una sceneggiatura? Quando le arriva sul tavolo una sceneggiatura da leggere? Quali sono i punti chiave che le fanno decidere? Questa è ok oppure non ok? In realtà è quanto la senti vera, aderente alla tua sensibilità, ovviamente quando leggi un copione puoi rimanerne un pochino esterno oppure puoi farti prendere dalle emozioni che sono descritte, crederci e immaginarti le scene, quindi un po' quello, il quanto tu riesci a entrarci e viceversa quello da regista, da produttore è più o meno lo stesso però immaginandolo con gli occhi di un regista che potrebbe interpretarlo perché ovviamente per esempio quando Simona mi ha fatto leggere il suo copione, io leggo tante cose che mi arrivano anche da fiori professionisti e la prima cosa gli ho detto, interessante ma con chi l'hai scritto? Ah no, da sola e questo è esordiente, non aveva mai scritto una sceneggiatura se non piccole cose, ha fatto una sceneggiatura che aveva un suo senso compiuto e insomma quello è un po' un talento che alcuni hanno. Lei non pensa che adesso effettivamente i ragazzi sono sempre legati ai social, ma stia un po' scemando questa voglia di social, nel senso che è stato rappresentato sicuramente un aspetto peculiare, tuttora peculiare della società, ma l'impressione per alcuni è che si sta andando un po' verso una stanchezza, verso un tornare indietro alla carta, alla lettura. Beh sì, è anche auspicabile, quello che ho fatto io con un film che ho appena fatto, ho riproposto oggi un film ambientato nella fine degli anni 70, dove praticamente c'era la crisi della sala, la gente stava in casa a vedere la televisione, le sale si trasformavano in sale a luci rosse ed era un inizio di crisi del cinema che poi invece si è salvato e quindi sono dei corsi ricorsi storici, adesso la sala stava subendo una nuova crisi dovuta alle piattaforme, ha tutta la possibilità di fruire i contenuti cinema in altra maniera, ma adesso di nuovo sta reagendo e sembra si stia riprendendo, così come vedo mio figlio adesso che ogni tanto ha il piacere di comprarsi l'LP, se pensiamo a dieci anni fa era impensabile che tornasse di moda l'LP e comprarsi il disco, quindi sì ogni tanto infatti si ritorna, quindi adesso è tutto talmente veloce che magari adesso i social ovviamente si vive di social eccetera, poi magari fra un po' di anni ci sarà qualcosa di diverso e saranno già sorpassati e non ci sarà più quel tipo di rapporto, chi lo sa. Ecco dato che mi ha proprio fatto venire in mente una domanda pensando alla pandemia, che ci ha abituato, gioco forza, rimanere a casa, vedere delle serie infinite eccetera così lì perché avevamo il tempo per farlo, però questo contestualmente ha anche abituato le persone a guardare i film in maniera differente e allontanarli dalle sale. C'è una ricetta secondo lei ora per far tornare le persone al cinema? Si sta facendo un cammino a ritroso, però non è ancora così evidente questo cammino? Beh in questo periodo è abbastanza evidente, nel senso che la gente se gli dai un buon film va al cinema, perché abbiamo l'esempio del film di Garrone che ha avuto un ottimo successo, il film della Cortellesi che sta andando benissimo, proprio con un passaparola sano di gente che entra, si diverte, si emoziona, si commuove e poi ne parla bene, quindi quella è la ricetta più salutare per il cinema, se dai dei buoni film la gente poi va a vederli, quindi sono molto fiducioso. Lei ha sempre diretto e prodotto film legati a doppio e anche triplo filo ai sentimenti, da che cosa nasce questa sua voglia, questa sua necessità di esprimere così tanto i sentimenti nei film? Beh sì, un po' probabilmente l'istinto, nel senso quello in cui mi ritrovo più facilmente, cioè i film horror, i film di estremazione eccetera, mi piace guardarli magari anche, però non saprei farli, non saprei decodificarli più di tanto e quindi forse ovviamente ognuno deve provare a fare quello con cui si trova a suo agio e quindi alla fine è sempre stato quello, perché io ho iniziato con i video musicali e poi con la pubblicità, anche lì ho fatto delle pubblicità tipo una storica di Calzedonia, una di Bauli con Natale Può, cioè tutti in cui i sentimenti erano abbastanza presenti e quindi poi mi è venuto naturale nel passaggio al cinema continuare, anzi mi hanno scelto per quello, per raccontare delle storie emotive. Ecco, raccontare questo tipo di film, diciamo in questo contesto storico, in questo momento storico dove vengono messi alla gogna i genitori, dove si parla di giovani che si sentono più allo sbando, che non sono quelli dello scamarcio di tre metri sopra il cielo. Ecco, se lei dovesse interpretare un film, prendendo tutti questi ingredienti, come lo farebbe? In realtà la sfida del cinema è sempre raccontare la contemporaneità, quindi quello è molto interessante. Noi ho fatto un film due anni fa, girato in Calabria, che si chiama Io e mio fratello, che fra l'altro ha avuto un ottimo successo su una piattaforma, che voleva raccontare la generazione dei trentenni, che sono anche lì un po' spaesati, perché hanno apparentemente mille possibilità e proprio perché ne hanno mille, poi sembra che qualsiasi scelta fai poi ti perdi le altre, non sai bene, quello evidentemente crea un po' di confusione, infatti si sono riconosciuti molto i trentenni e quindi quello mi è piaciuto perché è una cosa che io non stavo vivendo, però parlando e lavorando con gli sceneggiatori è una cosa con cui siamo venuti a contatto e poi siamo riusciti a rendere in una storia che la raccontava bene, insomma, quindi quella è sempre un po' la sfida del cinema, riuscire a legarsi alla contemporaneità e quindi non ti so dire come saprai raccontarlo, ma poi una volta davanti a una storia, a una sfida da affrontare, proverei a renderla reale, contemporanea e emozionante tutto quello che serve nel cinema. Ecco, allora vado un po' sul personale, dato che abbiamo parlato di sentimenti, c'è qualcosa che la spaventa e mette in crisi lei? Ok, domanda difficile, ma nel lavoro di cinematografica? Ah, nel lavoro, cioè qualcosa, una sua debolezza, ecco, una cosa che la fa fermare un attimo. Il dritto nel tennis, che gioco, soffro molto, devo migliorare il dritto e quindi è una grossa debolezza, no, scherzi a parte, sì, ovviamente ci sono tante debolezze e però è parte della bellezza del mio lavoro, cioè perché quando ti trovi a dirigere un film specie complicato, ovviamente hai a che fare ogni secondo con fragilità tue o di altri, insomma devi sempre cercare di tenere la barra dritta. Noi adesso abbiamo fatto questo film molto, secondo me, importante e stimolantissimo su una storia di Mameli che andrà su Ray I più avanti, credo verso febbraio ed è veramente stata una bellissima sfida e piena di paure, di ansie quando dovevamo affrontarla perché è un film molto grosso, in costume, molto complicato ma poi che ha dato tantissima gioia e soddisfazione. Parlavamo appunto prima della Cortellesi e ormai ci sono anche tante attrici, attori che si stanno declinando alla regia, come vede questa trasformazione? Nel senso che, ecco, lei da regista, che visione ha? Lo trovo in alcuni casi molto giusto, molto efficace, è gente che ha una grande esperienza, io stesso ho coprodotto con Kavak in film di Margherita Bui che è venuto bellissimo, di cui sono orgogliosissimo. Gli attori sono persone sensibili, emotive, fragili come anche di temperamento, quindi se uno riesce a mettere quel suo modo di essere in un film sicuramente ne esce qualcosa di interessante e quindi vedo solo lati positivi come abbiamo visto la Cortellesi, come ho visto Margherita e insomma ci sarà, so che anche Neri, Marco Rea ha fatto un film, Neri che ha lavorato nei miei ultimi due film che stimo tantissimo, sono curiosissimo di vedere il suo film e quindi insomma benvengano. Ho visto quello di Claudio Bisio, che è un'altra persona che stimo, con cui ho lavorato, con cui mi trovo benissimo, ha fatto un bellissimo film che infatti è andato anche molto bene. Lei è stato anche il regista dello spot di Monge e c'è questa storia del signor Monge da giovane, ci racconti qualche aneddoto curioso di come è nato questo spot, insomma un po' di dietro le quinte? Beh, è stato emozionante proprio incontrare Baldassare Monge che ci ha raccontato a parte della sua avventura che è iniziata appunto come racconta lo spot, quasi per caso, nel senso proprio per amore di questo cane a cui voleva molto bene, con cui viveva in simbiosi e a un certo momento ha dovuto inventarsi Cuoco per aiutarlo a guarire, da lì è venuta l'idea e ha creato ormai quello che si può definire veramente un impero, però il fatto che tutto sia partito da un sentimento, da un amore per il cane eccetera, credo che abbia fatto la differenza proprio anche sia nella narrazione per quello che abbiamo raccontato noi sia proprio anche a livello pratico per quello che è riuscito a fare e a creare. Mai dire mai a cosa nella vita? Niente, mai dire mai. Grazie a tutti. Grazie a tutti